3.000 migranti in arrivo in costiera amalfitana con tanto di bando della prefettura di Salerno per trovare sistemazioni in alberghi della zona. Una notizia più che clamorosa se fosse stata vera, quella rilanciata dal quotidiano Il Giornale e poi ripresa da diversi media nazionali, tanto da arrivare anche al Ministero dell'Interno che si è affrettato a chiamare in mattinata la prefettura per verificare che cosa stesse accadendo a Salerno. Nulla di vero però, come si è appreso da fonti proprio di Palazzo di Governo, impegnato per diverse ore a rispondere ai quesiti giunti da Roma, oltre che dagli operatori turistici, dagli amministratori della costiera amalfitana ed ovviamente dai giornalisti. Una questione che aveva provocato anche una richiesta di chiarimenti da parte dei coordinatori provinciali e della costiera amalfitana della Lega che aveva dato per buona la notizia dell'arrivo imminente di profughi negli alberghi della Divina, per di più in piena stagione estiva. Il bando in questione però, come ribadito dalla prefettura di Salerno, risale a due mesi fa ed era stato pubblicato con rilevanza europea, soltanto perché quello precedente era scaduto ed occorreva confermare l'ospitalità di migranti già presenti sul territorio salernitano, circa 2.600, anche meno quindi dei 3.000 citati, e non per fronteggiare nuovi arrivi. Resta comunque il danno d'immagine agli operatori della costiera amalfitana che, da quando la notizia si è diffusa, hanno dovuto fare i conti con numerose telefonate da parte di persone che avevano già prenotato o chi invece doveva ancora farlo e voleva chiarimenti.